Ciao a tutti ragazzi di TecnoAndroid e benvenuti al nostro unboxing del Meizu MX4 Pro l'ultimo dispositivo di casa Meizu Dopo aver acquisito un grandissimo successo con l'ultimo Meizu MX4 l'azienda orientale Meizu ha recentemente lanciato l'MX4 Pro Oggi grazie alla nostra collaborazione con Grossoshop.net siamo riusciti ad entrare in possesso dell'ultimo Meizu MX4 Pro un dispositivo che sta letteralmente conquistando milioni di utenti in tutto il mondo e che grazie a propri siti di e-commerce come Grossoshop.net si ha la possibilità di acquistare anche in Italia senza tassi adoranali e quindi direttamente dal produttore al consumatore pagando solo e esclusivamente le spese di spedizione in questo video vediamo l'unboxing con il contenuto della confezione per qualsiasi altra considerazione in merito vi rimandiamo alla nostra recensione che pubblicheremo nei prossimi giorni quindi confezione dell'MX4 Pro caratteristica di Meizu quindi è esattamente identica a quella dell'MX4 con cartone di color bianco con scritta MX4 Pro si apre a libro con all'interno alcune indicazioni sul sistema operativo e sulla personalizzazione ricordiamoci che Meizu personalizza il terminale con Flyme 4 che è una versione basata su Android che è particolarmente diversa da Android stesso all'interno della confezione abbiamo il carca batteria in questo caso vediamo che essendo importato dalla Cina si trova il carca batteria compresa americana o straniera quindi non europea ma comunque in genere offrono anche l'adattatore agli utenti italiani in maniera completamente gratuita quindi per evitare di doverlo acquistare da solo poi troviamo naturalmente micro USB to USB per la ricarica o per collegare il terminale al computer poi da questa parte abbiamo il nostro Meizu MX4 Pro terminale con cover posteriore molto carina con fotocamera flash LED e simbolo Meizu al centro vediamo che cover può essere rimossa e qui va inserita la micro SIM con micro SD sempre nella parte posteriore quindi cover posteriore si può rimuovere i tasti sono stati posizionati sui bordi vedete che non cambiano colore rispetto alla cover quindi sono di un colore grigio diciamo quasi sull'azzurro con altoparlante micro USB qua trovate la levetta per aprire la cover mentre qui nient'altro jack da 3.5 mm tasto di accensione e tasto centrale che ci permette di utilizzare al meglio il nostro Meizu MX4 Pro ora siccome la nostra è una versione di prova vedete che non è presente alcuna applicazione in italiano fate comunque il conto che nel momento in cui lo acquistate da crossoshop.net i ragazzi del sito si impegnano a aprire la confezione installare dell'applicazione e rimuovere tutte quelle in lingua cinesi quindi in questo caso non pensate di riceverlo direttamente con le applicazioni in cinesi ma lo riceverete già con tutte le applicazioni italiane personalizzate proprio per noi quindi non temete non abbiamo alcun problema nell'eseguire i software quindi non vi ritroverete un software cinesi e allo stesso tempo non avrete problemi nella connessione dati quant'altro in quanto le reti sono esattamente le stesse compatibili quindi abbiamo visto rapidamente l'estetica di questo terminale successivamente nei prossimi giorni vedremo tutte le considerazioni e la recensione completa per qualsiasi dubbio lasciate un commento sotto l'articolo e cercheremo di rispondervi al primo possibile Grazie Ciao Grazie.